Salve, oggi parliamo di televisione. La televisione sta cambiando completamente anche la mentalità dei teleascoltatori o televisionari come vengono chiamati per un avvenimento direi importantissimo per quanto riguarda la televisione. Per tanti tanti anni siamo andati avanti vedendo il bianco e nero prima poi a colori la televisione analogica, quella che ricevete su ogni apparecchio e adesso invece si parla di digitale. Siamo nell'epoca televisiva digitale. Con noi è Pier Giorgio Comotto che di televisione se ne intende tutta la vita seriamente con professionalità e si occupa di televisione, si occupa dei nostri televisori, che si occupa del segnale che entra nelle nostre case. Cos'è questo digitale Comotto? Il digitale è la nuova tecnologia che ci permette di vedere perfettamente bene il segnale televisivo senza disturbi e ci consente di vedere più canali, moltiplici tanti più canali. Ecco ma la domanda un po' fuori delle righe, era necessario? E se lo era perché? Se vogliamo è necessario ma è una cosa che viene fatta in tutto il mondo, il mondo cambia, corre e con la tecnologia digitale abbiamo più servizi e migliore qualità. e questo sarebbe già una cosa importante. Il problema è che non tutti lo vedono, questo nuovo digitale. Perché? Parliamo di Biella. Perché? Come mai? Cosa succede? Intanto siamo ancora in fase di sperimentazione. Ci stiamo avviando velocemente al famoso switch off. Che in italiano cosa vorrebbe dire? Che si spegne la vecchia segnale televisivo analogico e si passa al digitale. E chi ha l'apparecchio normale televisivo deve avere qualche cosa, sentito di un decoder, qualcosa del genere, no? Sì, perché il segnale digitale è un segnale numerico e per avere l'immagine bisogna che si componga con tanti zeri, tanti numeri uno messi insieme. Per avere questo bisogna munire il televisore di vecchia generazione con un decoder, oppure i televisori in commercio nell'ultimo anno sono obbligati ad avere il tuner interno. Cioè lo hanno già nel televisore? Nel televisore è già corredato. Non possono più vendere i televisori senza il tuner adeguato per il digitale. E i vecchi televisori che fine fanno? Buttati via? I vecchi televisori no, buttati via no, perché se sono in funzione e funzionano bene, perché il turbo catodico ha sempre funzionato bene, dotandoli di questo decoder funziona di nuovo perfettamente bene. Il vantaggio del digitale è che non avranno più nessun disturbo, sempre se il segnale è a norma, non avranno più né righe né puntini e non vedranno più l'effetto neve. Però in commercio non ci sono più televisore senza decoder incorporato. Cioè il decoder, quello esterno, è stato fatto per salvare un po' i vecchi televisori. I vecchi televisori, esattamente. Lo switch off è previsto nell'area tecnica 3, che comprende Piemonte Orientale, Lombardia e un pezzo di Emilia Romagna, dal 25 di ottobre fino al 26 di novembre. In quel lasso di tempo saranno tutti spenti i ripetitori analogici e verranno attivati i digitali. La gente si è un po' lamentata che ha dovuto sostenere delle spese non indifferenti. Purtroppo è la tecnologia che ce lo impone. Cioè il cambio di tecnologia ci impone questa sostituzione o aggiunta di apparecchiatura, per vedere meglio i segnali digitali. Una domanda che ci è stata posta più di una volta riguarda l'abitudine di molti di registrarsi il programma e poi rivederselo, registrarlo per tenerselo. Sarà possibile con il digitale? No, bisogna per forza avere il registratore uguale. A cambiarlo. Di nuova tecnologia, di nuova programmazione. Cambiere ancora il sistema o una volta che hanno messo a posto si è tranquilli? Ma questa è un po' una domanda... Una cosa europea, nazionale, mondiale. Ma no, sta solo aumentando la qualità della tecnologia con l'alta definizione. Ma in tutto il mondo questo? Dappertutto. Cioè il digitale normale ci sarà sempre e poi ci saranno canali trasmessi anche in alta definizione che ci vuole il decoder in alta definizione e ci vuole il televisore in alta definizione. La Rai per esempio, già adesso e abbiamo visto i mondiali, aveva dedicato un canale e continua a dedicare un canale all'alta definizione. Le partite posticipate della Mediaset c'è un canale adatto solo per l'alta definizione. Però bisogna adottarsi anche lì, purtroppo, bisogna adottarsi di un decoder in alta definizione e un televisore in alta definizione. L'analogico è finito. In ogni modo. Sarà finito. Come è finito in Inghilterra, come è finito in Spagna, come è finito in Francia, come è finito in Sardegna. E adesso veniamo a noi. È finito nell'altra parte di Torino, nella parte di Torino e Cuneo. E adesso toccherà a noi. E verrà per il 2012 tutta l'Italia digitalizzata. L'ultima domanda e poi chiudiamo perché il tempo, purtroppo anche se l'argomento interessante va veloce. Tu hai il polso di tutto quello, di tutto, di gran parte comunque, di quella che è l'utenza biellese. Vediamo un esempio di Biella così come potrebbe essere un'altra città. Oggi come oggi, secondo te, quanta gente ha già fatto il passo? Ma in linea di massimo all'80%. In linea di massimo all'80%. E poi saremmo costretti ad arrivare al 100%. Perché l'80% significa che gli altri 20% non gli interessava vedere Rai2 e Rete4. Esatto. Cioè ne hanno fatto anche a meno. Per adesso. Per adesso. Poi dopo, quando gli mancherà tutto, si dovranno adeguare. Perciò il futuro non ci sarà più. Il futuro è digitale. Certo, almeno fino al 2012 facciamo questa trasformazione che sarà tutta l'Italia digitalizzata e continueremo sempre a essere digitalizzati. Bene, noi ringraziamo chi ci ha ascoltato. Prima di tutto, ovviamente, ringraziamo Comotto che si è prestato a questa chiarificazione perché l'argomento è molto difficile. E ci riproponiamo di tornarci nuovamente sopra anche perché ci saranno dei cambiamenti. D'orinanzi, se c'è dei problemi, chiamiamo Comotto e Comotto ci risponde. Le mie possibilità. Ebbene, ma sappiamo che tu sei ermeio, come dicono errone. Cercherò di essere sempre conto e preciso. Eventualmente mi doterò di colleghi, mi appoggerò dei colleghi e da lì cerchiamo di accontentare tutti i clienti. Molto bene. E noi speriamo di avervi accontentato e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. E noi speriamo di avervi accontentato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.